Un maggio straordinario per la città di Ravenna, l'inaugurazione della mostra di San Romualdo, i concerti del maestro Mutti con i Viener Philharmoniker e oggi l'inaugurazione del Museo Dante in un riallestimento dopo 100 anni, perché questo museo è nato 100 anni fa per le celebrazioni del sesto centenario e per le celebrazioni del settimo abbiamo deciso di riallestirlo completamente, con un uso molto importante delle nuove tecnologie, con un'attenzione anche ai più piccoli, perché il sogno di questo museo è far innamorare di Dante i più piccoli, gli studenti, i ragazzi e far sì che l'esperienza, il racconto della commedia parli alle loro vite, perché eravamo tutti un po' sconfortati da questa pandemia e dall'effetto che poteva avere sulle celebrazioni, in realtà adesso ne abbiamo un gran bisogno, nel senso che Dante ancora una volta salva il nostro paese, salva l'Italia e attraverso le celebrazioni possiamo ripartire. E' proprio ripartenza, poi peraltro qui siamo nel cuore della ripartenza dell'Emilia Romagna, è il centesimo anniversario della scomparsa del poeta più amato, letto, studiato, celebrato nel mondo, insomma. Bellissima occasione, poi volevo fare di persone i complimenti al sindaco, alla città, perché la rivisitazione del museo, diciamo pure, la sua rimessa a nuovo, chiamiamola così, in un percorso anche molto efficace e devo dire affascinante, meritava e quindi sono venuto proprio volentieri.